Campo basso e Roma City a fronteggiarsi Lupo che deve riprendere la corsa assolutamente dopo la sconfitta. Patita al Gran Sasso d'Italia contro l'Aquila. Dall'altra parte un Roma City con ottimi giocatori. Fatta Maldonado il corridoio perfetto per Di Nardo, lo ha visto, può andare da solo, attenzione. Può andare da solo Di Nardo anche se ha recuperato la retroguardia laziale. Di Nardo in area di rigore, ha bisogno di una mano, lo attaccano in due adesso. Il raddoppio si avvicina a Serra, preferisce andare centralmente verso Maldonado, il controllo. La conclusione di Maldonado, rete! Rete immediata di Luis a Maldonado. 1-0, il vantaggio del Lupo, terza rete per Maldonado. Maldonado, può pensare anche alla conclusione, perde l'attimo però, Serra. Per Lombari. Ancora Lombari di Filippo con all'esterno, bella la triangolazione, Lombari in area di rigore, la mette dentro. E il gol di Persichini. Aspazio davanti a sé, largo, Ascoli sulla destra, preferisce andare in mezzo, attenzione, traversone interessante. Tocco per Capicella, traversone di Nardo, versione difensore ad allontanare. Occhio, resta lì la pallone, davanti la porta! Con la mancina allontana, la via, 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 allontana di Filippo. Che occasione per il Roma City. Trasciani da solo, davanti Esposito. Gelonese, verticale, verso Ascoli, la corsa del 26, la traversone, sempre basso il palo! E non entra, che sfortuna comunque. Anche sfortunato il Roma City. Capice. Centralmente. Prova a metterla sulla... Secondo palo, Serra! Si era fatto infilare alle spalle da Ascoli. Palla che resta lì, Serra. Va ad attaccare Gelonese. Che riesce comunque a mettere in mezzo, attenzione, la traversa la seconda! Secondo palo per il Roma City. Allarga verso Sparacello. Capice. Fa girare bene il pallone, il Roma City. Dell'attraversone sul primo palo, che non ha raccolto nessun giocatore della Roma City. Palla buona per Parisi. Parisi. Verso Persichini. Pensa la conclusione Persichini. Pallone alto. Il tempo scorre, siamo al ventitreesimo di questo secondo tempo. Sempre 2 a 0. Di Nardo non riesce a liberarsi della marcatura. Persichini! Persichini! Sulla linea. L'ha salvata Trasciani. Poi la conclusione dello stesso Persichini. C'è stata un'indecisione lì dietro. L'attraversone è bello il gol. Gol. Il gol di Ingretolli. Si è infilato benissimo. Maldonado. L'attraversone di Maldonado. Lunghissimo verso Di Nardo. Tocco con una mano forse. Poi la conclusione! La conclusione! La conclusione di Di Nardo. Ma dobbiamo salire, raga. Dobbiamo guadagnare del tempo. Rimasto a terra Nonni. Oh! Rimasto a terra Nonni. Di Filippo. Di Filippo. E via! 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 Stai qui! Era rimasto a terra Nonni. Avevano continuato i giocatori del Roma City. Ed eccola il fischio! È finita! È finita! Vince il campo basso. Due a uno le reti di Persichini e Maldonado. Per il Roma City. Ingretolli. E anche una buona dose di sfortuna. Due pali, due legni. Ma è il calcio. E anche una buona dose di sfortuna. E anche una buona dose di Sierre. E anche una buona dose di Sierre. Grazie a tutti.